ciao a tutti sono elle benvenuti al mio canale oggi sono qui per parlarvi della sesta parte perché questo libro è infinito di revenge di tom bauer una sorta di biografia non autorizzata di megan markle in cui l'autore inglese racconta retroscena non solo della sua infanzia di cui ho parlato nei precedenti libri ma anche di quello che poi effettivamente duri effettivamente successo durante lo scisma dalla casa reale e siamo arrivati al punto in cui megan finalmente ha ottenuto quello che voleva e lo dico in questo modo perché se ascoltate le precedente le precedenti parti ci sono state testimonianze da persone che ci hanno messo la faccia cioè che hanno detto al giornalista nome e cognome si sono fatte quotare che hanno detto molto chiaramente che megan conosceva la famiglia reale sin da quando era bambina addirittura che sognava di entrarci che aveva un piano molto preciso per diventare sempre più famosa che cercava un uomo inglese da sposare da prima di sposare harry che era una spendacciona che usava le persone che quando otteneva appena un po di fama si comportava male con la gente nonostante prima fosse stata del tutto carina quindi di questo hanno cominciato ad accorgersi ne accorgersene anche a palazzo quando harry l'ha introdotta in famiglia anche se come ci dice tom bauer che è chiaramente un royalist cioè un sostenitore della famiglia reale hanno provato all'inizio a pensare il meglio di lei e ci spiega comunque l'altra faccia della medaglia perché noi abbiamo avuto la versione di harry e megan con la docuserie e adesso invece abbiamo la versione per esempio dello staff perché se ben vi ricordate sia in sperra ovvero il libro la biografia di harry che nella docuserie comunque si è lasciato un attimo intendere che non hanno sostenuto megan che lei non sapeva a che cosa andava incontro no in questa parte che vi racconto oggi viene detto molto chiaramente che da prima di sposarsi le hanno spiegato in molti modi che non avrebbe potuto fare come voleva lei che non avrebbe potuto creare la sua fondazione benefica che non avrebbe potuto parlare delle iniziative che le interessavano messa così uno pensa non è molto giusto però quelli erano gli accordi e inoltre la famiglia reale come cerca di spiegare tom bauer era esistita da anni da decenni da prima di megan cercando di essere il meno controversa possibile solo così poteva avere un indice di gradimento tra i britanni ci pare a quasi il 70 per cento cercando di non prendere una posizione molto precisa cercando di non essere politica e invece megan voleva essere politica il problema non era questo il problema è che la stavano ad ascoltare tutti quanti solo perché faceva parte della famiglia reale quindi non sei più un'entità singola non parli per te stessa glielo hanno detto a lei non importava quindi non si tratta qui di ingenuità ma di un piano preciso dell'idea della convinzione che in fondo lei avesse il diritto di provare a cambiare la famiglia reale non solo il diritto probabilmente anche il il carisma perché si sentiva una nuova Lady Diana non so perché non riesco a vedere la chat in questo momento proverò a ricaricare la pagina eccomi ciao a tutti e grazie di essere qui con me oggi magari vi saluto un attimo verso la fine cercherò di leggere i vostri commenti verso il termine e vedo che molti di voi sono felici di aver beccato la diretta io sono felice che siate qui con me allora siamo a settembre del 2017 e questo è il capitolo credo 18 adesso vado a controllare spotlight cioè nella luce dei riflettori siamo nel settembre del 2017 capitolo 18 di questo libro e kate middleton ha annunciato la sua terza gravidanza è incinta del principe lui e megan comunque è stata presentata alla famiglia ed ecco qui un'altra cosa che non sapevo che non non mi era ben chiaro da altri contesti neppure dal libro di harry che cosa pensavano di lei la famiglia i membri della famiglia spencer perché harry continuava a sostenere lo ha sostenuto addirittura nell'intervista di fidanzamento che la fidanzata fosse molto simile alla madre a diana ecco le sorelle di diana il fratello di diana che pensavano di megan harry e li ha presentati e lo era convinto che loro avrebbero visto le somiglianze con la sua madre no un'altra donna estroversa o espansiva carismatica che cercava di combattere per il bene nel mondo ecco no invece megan non è piaciuta così tanto ai familiari spencer vedevano che non era un fiorellino innocente così come lo era stato diana almeno all'inizio in particolare il fratello di diana il conte spencer ha provato a dire al nipote vacci un po piano col matrimonio forse dall'alto dei suoi due divorzi già alle spalle due o tre addirittura quindi aveva esperienza da questo punto di vista harry l'ho ascoltato no anzi ha dato di matto un attimo perché non lo si poteva contestare su megan e le persone che circondavano la coppia vedevano anche un altro problema per loro nel senso che e non sarebbe un problema per una coppia normale per delle persone normali la grana il denaro non ne avevano molto molto probabilmente avevano già intuito e gusti costosi di megan megan non aveva altri lavori all'orizzonte e mi pare normale in questo senso aveva poco a che fare con la sua con il suo talento di attrice e la corona aveva inviato persone sul set di suits a cambiare la la trama stare attenti che non girassero con megan determinate scene troppo oseo cose simile è chiaro che nessuna produzione sarebbe sottostata a questi dettami era ovvio per tutti nel mondo dello spettacolo che la carriera di megan come attrice era terminata e adesso diventava un membro della famiglia reale però questo significava che a lei non arrivavano più soldi e i soldi di harry harry aveva l'eredità di sua madre che però teneva da parte e non non era tanto da spendere aveva un milione e mezzo di sterline l'anno per le sue spese offerto dal fondo del padre però non erano così tanti soldi nonostante tutto cioè noi diremmo è una fortuna sì lo è però non se uno si fa viaggi privati in aereo non se uno compra come vedrete da poco un abito di 56 mila sterline per il per un'occasione speciale e megan ha fatto così con un completo che ha indossato per la cerimonia non la cerimonia perdonate l'intervista di fidanzamento però chiudiamo questa parentesi in effetti poi la coppia si presenta al mondo in maniera un pochino più ufficiale durante gli invictus game che sono questa iniziativa lanciata un pochino a nome di harry una otto giorni a toronto quindi proprio a casa di megan e megan che comunque già parlava con gli ufficiali del palazzo aveva organizzato tutto per far sembrare che la cosa tra loro fosse seria come lo era e voi vi ricordate quanto si era sforzata questa donna per essere fotografata insieme a coffee annan a justin trodo il primo ministro canadese ecco nel palco vicino a harry sedevano non solo justin trodo e sua moglie penso anche ma anche barack obama e barack obama ha parlato a harry chiedendogli come va con megan perché come tutti gli americani era entusiasta che il principe si fosse fidanzato con un'americana non solo megan ha fatto fare anche una foto da jason off il loro segretario il segretario di harry ha orchestrato le cose in modo che sua madre doria si sedesse vicino a harry e venisse fatta una foto dei due che insomma conversavano piacevolmente in questo modo era chiaro a tutti che questa storiella tra loro non era una relazione qualunque ma era proprio un introdurla un introdurla nella famiglia reale piano piano una relazione che sarebbe diventata prima o poi ufficiale e sarebbe sfociata in un matrimonio e per l'occasione adesso stavo cercando di vedere se posso farvi vedere una foto megan aveva indossato un scusate veniamo così eccolo lì aveva indossato un un completo pensato cioè nulla era lasciato al caso la camicia che indossava era non era una camicia di harry era un modello della sua amica miscia nono finta camicia da uomo e immancabili pantaloni strappati jeans strappati che come vi ricorderete harry continuava a citare nella sua biografia sper e il look piace piace parecchio d'altronde anche quando che ti indossava qualcosa i giornali dicevano immediatamente ecco che cosa indossa e subito tutte le donne inglese no e non le wannabes ha anch'io voglio quello e quindi sia i suoi occhiali che altri suoi capi di vestiario vanno subito a ruba e lei ovviamente al settimo cielo perché è per questo che ha combattuto tutta la sua vita e in quell'occasione doria appunto si è fatta vedere e thomas thomas markle il padre qui di nuovo si ripete uno schema è l'unico caso in cui prova un po di compassione per megan se vi ricordate la sua infanzia ve la ve la rassumo qui velocemente probabilmente l'origine di tutte le sue turbe di questa sua ambizione di questa sostanzialmente autostima fittizia ultra esagerata volta a evidentemente andare a colmare un qualche vuoto era il modo in cui la trattavano i suoi genitori lo dicevano persone che stavano accanto a lei ninaki pridi in particolare una sua amica diceva che megan da piccola si doveva sforzare di accontentare entrambi i genitori che erano separati loro la usavano per scambiarsi messaggi e volevano essere i preferiti della figlia e in questo modo lei si sentiva divisa tra due persone e sentiva sempre di doverli fare felici thomas markle le ha dato tutto ok però c'era l'impressione che tutto quello che lui le dava fosse un po per vivere vicariamente attraverso per vivere attraverso di lei perché se megan aveva successo significava che aveva avuto successo anche lui quindi thomas markle non è questa gran persona alla fine e anche in questo caso si dimostra un padre poco affettivo perché un uomo che usa la figlia posto che pure megan è una che usa e lui poi la cresciuta così e poi si è stupito che lei gli si sia rivoltato contro thomas vede le foto di doria a questo invictus game e non è molto contento però megan lo invita a stare da lei a toronto e lui fa il difficile perché vuole essere corteggiato dalle persone della figlia no ma non c'ho soldi probabilmente vuole che gli paghi il biglietto posto che megan si era anche offerta ad un certo punto di pagare e lo ve lo dicevo l'unico sprazzo di generosità o comunque di sottomissione che lei mostra a qualcuno è verso i suoi genitori perché vuole la loro approvazione e poi però thomas prima dice sì ok vengo ma sapete che cosa vuole in cambio perché vuole qualcosa in cambio vuole che vengano fotografati insieme anche loro due visto che ha fatto una foto con doria che facciano una foto anche con lui lui lo giustifica dicendo così insomma magari la curiosità dei fotografi un po scema c'è meno meno ansia da prestazione da parte mia e all'inizio megan dice di sì e poi annulla tutto però e thomas si convince che sia perché doria ci ha messo lo zampino questi genitori non erano in continua lotta tra loro neanche un anno prima avevano sì un anno prima avevano cenato insieme per il ringraziamento e a volte passavano qualche giorno insieme però sono come bambini in questo senso devono decidere chi è il preferito della figlia e in questo momento thomas pensa che doria voglia rubargli l'attenzione che sia lei a mettere la pulce all'orecchio di megan che bisogna tenere lontano il padre e in effetti così sembra che che stia facendo megan harry non è mai andato a vedere thomas e questo penso che sia un piano preciso della figlia perché thomas comunque era una persona problematica l'intera famiglia marco era problematica e megan non voleva che li conoscesse poi vedrete dal tra l'altro una dichiarazione precisa di harry pubblica fa capire anche il motivo e thomas comunque si sente tralasciato ma come vi dicevo probabilmente questo è un è un leitmotiv per quest'uomo qui sapete cosa fa addirittura cioè fin da quando megan è diventata famosa cioè è stata presentata come la ragazza che usciva con harry praticamente neanche due tre giorni dopo se ben ricordo samantha la sorellastra ha sparlato di lei in ogni modo possibile qui non sto dicendo che samantha non avesse ragione perché ragion veduta pare di sì le aveva detto narcisista manipolatrice le aveva detto così thomas da il numero di telefono privato di megan a samantha perché le figlie devono fare pace qui di nuovo non è per difendere megan ma che cosa sperava di ottenere e megan si incavola da morire col padre e non lo vuole più sentire almeno per il momento e l'altro pensava sola ma io voglio che facciate pace vedete che qui lui si comporta in questo modo per far felice a se stesso gli importa solo di non avere problemi gli frega zero di questa figlia leggo qualche commento lupi mi diceva megan arriva da una famiglia disfunzionale ma lei nel risultato peggiorato sandra dice è normale che una figlia desidera l'approvazione dei genitori da un perio non nasce una mela certo è normale che una famiglia desidera che una figlia desidera l'approvazione dei genitori così come è normale che in genere quando la figlia è piccola o il figlio è piccolo i genitori diano questa approvazione senza condizioni invece il quadro che ne salta fuori è che i genitori dessero approvazione solo se la figlia li faceva felici e andiamo comunque avanti un'altra persona che megan si lascia dietro per la serie non è solo la sua famiglia è anche l'attore che interpretava suo padre in suits tale wendell pierce e vi direte vabbè era solo un collega di lavoro sì il problema è che lei prima andava comunque dicendo in giro che erano grandi amici grande tutto che lui l'aveva sempre sostenuta e pubblicamente questo tizio dice avrai sempre un amico in me lei non non lo vuole più non lo sente più lo gosta in pratica e arriviamo al capitolo del fidanzamento qui tom bauer ci dice che la regina per far felice harry perché era il suo cocco e per lui lei saltava un po i normali passi della burocrazia passatemi il termine reale decide di accelerare l'entrata di megan nella famiglia reale mi permette di dire non è senza cattiveria secondo me l'ha fatto anche perché non stiamo più parlando di due giovincelli un conto erano william e kate che erano ventenni quando si sono sposati forse lui aveva trent'anni ma ancora ancora questi erano già un po più avanti con l'età e soprattutto se si voleva che harry avesse magari un erede e siccome megan era ufficialmente di un paio d'anni più tre anni anzi più grande di lui bisogna darsi una mossa e quindi penso che lo stessi facendo anche per una questione di necessità e quindi addirittura invita megan a sandra gama al natale di sandra gama quando ancora non c'è un fidanzamento ufficiale perché tanto che aveva già segnalato insomma che quelle erano le sue intenzioni e questo è un aneddoto molto comico no mi fa venire in mente c'è un detto fra gli americani o degli americani penso quando prendono in giro una persona che si dipinge come troppo buona viene detto che era animato da era amato scusate da animali bambini e tutte le forme superiore di vita e terry ci dice che quando è arrivata a sandra gama megan è stata accolta benevolmente dai cagnolini della regina che invece ogni volta che avevano visto che avevano abbagliato e invece vedono megan e le vanno incontro felici io penso avranno sentito gli odori degli altri cani perché lei aveva dei cani o comunque lei avrà saputo trattare quei cani e no lui la vede tipo principessa disney no perché i cani le volevano bene questo era un altro segno intanto megan in effetti a novembre di quell'anno aveva già fatto i bagagli ed era si era trasferita in pianta stabile a a londra per stare con harry e cominciava a subire la pressione che avevano subito come ci dice tom bauer tutte le altre donne che erano entrate nella famiglia reale a suo tempo diana sarah ferguson e anche kate tom bauer ci dice ad esempio che kate la sua famiglia e middleton all'inizio erano stati trattati come arrivisti dai dignitari di corte che hanno un grosso potere in questa in questo sistema monarchico di palazzo ed era dovuto intervenire william per dire piantatela insomma perché sono qui per restare e quindi doveva succedere anche a megan prima o poi e sapendo ormai che ci sarebbe stato l'annuncio di un fidanzamento il palazzo gli ufficiali del palazzo sono d'accordo nel dire bisogna preparare questa donna a farle capire che cosa dovrà affrontare e harry anche nel suo libro nelle varie dichiarazioni ha detto che lui aveva in effetti timore di dirle esattamente che cosa sarebbe accaduto però l'aveva avvertita che sarebbe stata difficile e loro dicono guardate che non c'è mai fatto una domanda precisa su quello che l'aspettava noi abbiamo cercato di istruirla ma nessuno ricorda domande dettagliate su che cosa posso fare che cosa non posso fare no lei tranquilla e non era perché comunque non si aspettava problemi è che lei si aspettava che l'avrebbe avuta vinta il 27 novembre del 2017 viene annunciato ufficialmente il fidanzamento e le cose vanno avanti in maniera spedita aspettate vi faccio vedere la foto ma ve la ricorderete eccolo qui sto cercando di far spostare l'immagine eccola qua quella cappotto che indossa dovrebbe essere quello che viene indicato qui ovvero un abito di ralph russo da 56 mila sterline quindi 65 mila doll euro euro dollari al tempo ricordo e lo dice anche tombauer che il la gente era entusiasta anche di questo suo vestito molto alla moda comunque perché era diversa da kate kate che indossava cose molto nel tentativo di apparire modesta perché così l'avevano insegnato era un pochino noiosa al tempo rispetto a questa megan che era più flash i giornali in quel periodo dicevano guarda una che finalmente sa ne sa qualcosa di moda che non ha paura di mettersi abiti che non siano solo etici chi se ne frega dell'etica pensiamo alla bellezza megan sa quello che fa al suo stile quindi il giornale inizio strapieni di complimenti e nell'intervista della bbc ha ragione veduta queste parole qui che vengono dette sia da harry che da megan assumono un altro valore perché io ricordo di aver visto questa intervista e non avendo ancora un'idea precisa di megan a parte che non l'ho vista neanche tutta non mi interessava così tanto la famiglia reale fino a qualche tempo fa fino all'intervista di opera fino a quando non è cominciato lo scandale insomma ricordo che l'ho vista per un attimo lei mi sembrava un po ingessata ma non gliene faceva una colpa cioè in una situazione del genere con tante persone che ti guardano normale è normale anche che tu abbia preparato i discorsi perché rischi di dire cavolate se non ti sei preparato bene quello che andrai a dire però in effetti a ragione veduta studiando quello che dice è un po troppo costruito è costruito per sembrare genuino ad esempio lei della sua relazione con harry ci dice che lei in realtà non lo ha conosciuto tramite ricerche ma proprio così lo dice ed è falso perché la sua amica gina ha detto lo ha googlato e come lei dice invece no io non ho imparato a conoscerlo così ho voluto imparare a conoscerlo di persona all'interno di una relazione organica e davvero autentica perché devi dirci che è davvero autentica non c'è bisogno che ce lo segnali durata 18 mesi una curva di apprendimento genuina insomma ho investito tempo ed energia per farlo succede detto così vedete che in effetti sta dicendo quello che ha fatto davvero si ha investito tempo ed energia per farlo succedere è che uno se lo sente al di fuori del contesto pensa si è sforzata e io era quella che avevo pensato anche allora si è sforzata va bene cioè non stiamo a mal giudicarla per delle parole che possono avere mille significati infatti all'inizio tutti l'hanno amata sembrava solo che fosse molto preparata e che si fosse impegnata in queste relazioni che sapesse quello a cui stava andando incontro e poi va beh in quel periodo parlavano anche cioè in quella intervista parlavano anche di kate e william sia harry che megan dicevano che erano stati assolutamente favolosi nel sostenerli sia kate che che william e poi harry ci diceva diana c'è mia madre comunque sarebbe felicissima di megan è come se fosse qui presente in questo pazzo viaggio se fosse qui in questo momento penso che sarebbe starebbe saltando su e giù dalla gioia sarebbe eccitata per me e poi ci rivelava che aveva chiesto la mano di megan al padre che è un giusto carino però in effetti poi qui ci viene detto che non l'ha non l'aveva incontrato di persona ma che l'aveva tenuto lontano e poi questa è la parte che quando l'ho letta ho riso un riso ma proprio di gusto nel senso che vi ricordo che in quel periodo lì del fidanzamento quando non era ancora ufficiale lei era già finita sulla copertina di vanity fair perché finalmente la sua prima copertina desiderata da tutta la vita perché era la fidanzata di harry e adesso invece prova a dire che lei è un po una vittima dei media ma questo è lo si tira fuori dal contesto quello che ha detto davvero è non sono mai stata parte della cultura dei tabloid e ho vissuto una vita relativamente tranquilla c'è un'incomprensione di fondo per il fatto che ho lavorato nell'industria dell'entertainment non è vero che ho familiarità con questo con questo fenomeno insomma è vero cioè sta dicendo l'assoluta verità è vero lei non finiva sulle copertine dei giornali nessuno la inseguiva non aveva i paparazzi ma non perché non lo volesse non perché non abbia cercato di farlo io vi ricordo che ci sono testimonianze di hotel che dicevano che lei entrava nel loro hotel e chiedeva che la registrassero sotto falso nome perché qualcuno altrimenti poteva riconoscerla per la privacy e loro dicevano ma chi ma chi ti conosce lei in realtà sognava che la inseguissero inseguiva la fama adesso vi anticipo una cosa che in realtà non dirò oggi perché di un paio di capitoli più in là guardate la mancanza di classe no veramente mi stupisco più in là tra un annetto circa lei chiederà ai maggiori brand prada insomma di ore via dicendo di ore erano dei suoi marchi preferiti cioè non in prima persona ma tramite il suo ufficio stampa le uffici stampa o comunque gli addetti alle pubbliche relazioni di queste grandi marche ricevono un messaggio dall'ufficio stampa di megan o dai pr di megan in cui gli viene detto guardate se volete mandare delle dei regali cioè la duchessa li accetterà con piacere e saranno visti come un gesto di buona volontà e loro non so se gliel'abbiano mandati alla fine so però che loro avevano cercato di mandarli a kate e l'ufficio stampa o comunque pr di kate della casa reale ma li avevano rimandati indietro perché no lei preferiva non farlo anche perché di solito c'è un qui proprio in tutto questo no cioè se tu accetti questi regali stai gli altri poi hanno diritto di chiederti qualcosa quello che mi fa sorridere ma che mancanza di classe ma se è una duchessa oramai o comunque c'è una nobile una reale non chiederli tu aspetta che ti arrivino e poi al massimo le rifiuti lei non voleva neanche rifiutarli ma andare a chiederli è che impaziente non poteva neanche attendere è proprio una roba che mi lascia basita e in questo momento siamo ancora appunto alla fidanzamento e ascoltiamo anche quello che dice r perché alla fine quello di megan era stata sincera con lui almeno sul piano che aveva loro lo ripetevano in continuazione vogliamo avere più impatto possibile eri si era sempre sentito il secondo la ruota di scorta e megan l'aveva convinto che invece insieme a lei avrebbe potuto essere molto più importante anche nell'intervista lo stanno dicendo megan diceva c'è molto da fare entrambi noi due abbiamo una passione per rendere per cambiare il mondo in meglio c'è tanto da fare e anche harry sì speriamo di avere un grande impatto e di nuovo quando avevamo sentito questo discorso per la prima volta avevamo pensato che non c'era niente di male no in effetti la famiglia reale questo fa in generale si espongono per cause così benefiche positive solo che loro alla fine volevano decidere loro per che cosa agire mentre la famiglia reale non si esponeva di solito francesca mi diceva el cara come disse totò signori si nasce e lei non nacque bagnata dalle acque del sacro fiume della nobiltà d'animo sì infatti però no è proprio questo significa non aver proprio neanche capito cosa essi non ascoltare nessuno perché questo quello che continuano a ribadire tom bauer non ascoltava nessuno perché se avesse ascoltato qualcuno glielo avrebbero degli e lo hanno detto sicuramente non si chiede al massimo poi ti arriva e se proprio devi accetti se proprio vuoi ma chiedere chiedere da e da poracci lei una reale oramai non doveva chiedere assolutamente doveva aspettare rovina il nome dei reali facendo così e megan comunque in quell'occasione nel fidanzamento aveva aggiunto di nuovo come si dice in inglese she was telling on herself cioè si stava mostrando per la persona che era in realtà già da allora una volta che hai accesso a una voce a cui le persone presteranno ascolto beh con questo arriva una grande responsabilità non vedeva allora lei non vedeva l'ora di essere ascoltata a chiunque dica lo faceva perché tiene a queste cause benefiche finora le le uniche cose che aveva fatto in queste cause benefiche era portare riflettori su se stessa non sulle cause effettivamente il massimo che aveva fatto almeno da quello che riporta tom bauer era raccogliere 15 mila dollari per un pozzo in africa 15 mila lei guadagnava 175 mila dollari a episodio ne avrebbe potuto fare molto molto di più e lo aveva fatto in una festa come fanno tutti i ricchi no in generale donano per sentirsi più buoni ma in realtà e sono solo scuse per per farsi vedere per fare quello che chiamano virtio e signa virtio signaling non so come si dice nelle in di preciso significa mostrare di essere virtuosi però non ha lo scopo di mettere al centro la il bene che stai facendo ma mettere al centro treste stesso per il bene che stai facendo mostrare di essere tanto buono questo è tra l'altro vedete ci hanno coniato un termine perché in america lo fanno in tantissimi non è non è sicuramente una cosa solo di megan e in questo periodo comunque alla nel momento del fidanzamento megan piace a tutti ovviamente era una ventata di novità di freschezza all'epoca lo vedevano vedevano questo fidanzamento come una cosa in attesa perché ci si aspettava che harry si sarebbe messo con una noiosa aristocratica slavata e invece arriva al braccio questa attrice e il daily telegraph diceva che tutto questo megan era la cosa migliore che è successa alla ditta intendeva la famiglia reale nelle ultime decadi e lei è più carismatica di tutti i loro messi insieme io ce la vedo megan che gioisce per questa cosa era quello che aveva sempre voluto e infatti a queste lodi però non bisogna credere perché all'inizio tutti non è che erano felici per lei nessuno la conosceva davvero stavano mettendo riponendo in lei speranze il problema è che poi lei le ha disattese e dicevano anche quello che harry avrebbe voluto sentire harry ha scelto la donna che diana avrebbe voluto diventare megan potrebbe essere la prossima diana in termini di carisma era affascinante e ecco per far capire che cosa si aspettavano anche gli editorialisti tipo sarah vaina sul daily mail diceva lei con i suoi tre anni in più gli fornisce una figura quasi materna a volte stabile per questo ragazzino perduto e lei rinuncerà a tutto pur di sposare il principe questo ci si aspettava e non perché uno volesse male a megan ma perché era normale entrando in una famiglia con una gerarchia così definita con una struttura così chiara che non ammetteva quasi cambiamenti era ovvio che dovevi abbandonare te stesso per entrare a far parte di questo insieme questo si aspettavano tutti i britannici lei però non stava rinunciando a niente non è mai stata sua intenzione rinunciare a qualcosa bianca diceva a quanto capito le regole per kate erano due non accettare regali cioè pagare tutto e solo di band di brand inglesi per dimostrare sostegno all'economia nazionale sì esatto sì anch'io avevo sentito questo e voi vi ricordate dell'amica d'infanzia ninaki pridi quella che ha raccontato la maggior parte comunque della dell'infanzia di megan ecco in questo punto qui devo pensare un po male di lei nonostante tutto perché sapete cosa ha fatto questo non lo sapevo io posto che pridi si è sentita disdegnata da megan perché da quando ha lasciato trevor engelson che era il primo marito pridi era stata la sua damigella d'onore amiche per vent'anni praticamente poi megan al momento in cui finalmente aveva ottenuto un po di quel successo che aveva sempre voluto ovvero era diventata un protagonista non protagonista scusate parte del cast di suits aveva lasciato dietro di sé ninaki pridi però dopo l'annuncio del fidanzamento ninaki prende e vende la sua storia la storia dell'infanzia di megan ai giornali per 150 mila sterline ora no no dai le avrei sei proprio ammareggiata da allora da un lato se lei era una persona comune immagine di sì 150 mila certe ci fai una casa in italia sicuramente altrove non so però non è meschino non è meschino davvero vendere una tua ex amica a questo punto devo mettere in dubbio quello che mi ha detto perché io non è che ci credo così tanto c'è ci credo alla fine sì però sarebbe stato più di classe se avesse dato queste informazioni gratis ma evidentemente ninaki era molto amareggiata ma molto molto amareggiata perché poi definisce megan sui giornali in questo periodo qui dice la verità comunque nel senso guardate che lei puntava a diventare la nuova diana sin da quando era ragazzina eccetera è una rivista arrampicatrice sociale se lo dici così nel momento in cui megan è il massimo splendore è chiaro che nessuno ti ascolta non avrebbe dovuto vendere la storia e non hanno posso comunque approvare questa cosa perso umanamente nel mentre con bauer ci dice che in realtà anche trevor engelson il primo marito qualcosina l'ha detta ovvero in maniera indiretta nel senso che in quel periodo ha cercato di vendere una sceneggiatura in cui c'era un uomo che lottava per la custodia dei figli con la sua ex moglie che aveva sposato un principe quindi era evidente che si era ispirato alla storia di megan qualcuno qualche osservatore un po più cauto nel discorso di megan aveva visto intravisto quello che poi si è scoperto in seguito ovvero c'era questo stefan glover in un'intervista tv diceva veramente il discorso mi sembra molto costruito c'è un una campagna autopromozionale molto acuta ben molto furba ben studiata e posto che anche lui allora non si voleva perché non aveva gli elementi non si voleva esporre più di tanto diceva a me sembra che lei stia promozionando molto il brand megan e ci vedo un problema nel momento in cui forse gli scopi di questo brand megan vanno a scontrarsi con il brand famiglia reale e quindi vedremo come andrà ma ovviamente l'opinione è completamente differente negli stati uniti dove erano al settimo cielo cioè un'americana che diventava principessa entrando nella famiglia reale non solo un'americana qualunque ma di una minoranza quindi ogni complemento possibile ma gli americani sono sempre così è americana è fantastica piena di talento è una filantropa la principessa perfetta è una persona che insomma ha fatto qualcosa è in tutto questo a palazzo assumono qualcuno per darle una mano voi vi ricordate che lei nella docu serie ha detto che non è stato spiegato come navigare nella vita di corte e io stessa ci ho creduto un attimo perché lo diceva con una tale sincerità e spiegando un attimo posto che in tutto quanto avevo comunque un'opinione negativa su di lei ma se era vero quello che stava dicendo ovvero che non era stata istruita per forza forse aveva commesso comunque qualche errore a prescindere dalla sua malafede una mia amica mi aveva detto ma non è vero che non stata istruita le hanno affiancato sarah ferguson ad esempio per spiegarlo un attimo ma non solo il palazzo ha convinto una una dignitaria di corte una pr di palazzo una segretaria di corte tale samantha cowen a non dimettersi perché doveva fare da segretaria privata a megan e al suo servizio avrebbe avuto 14 assistenti 14 assistenti solo per star dietro a megan e quindi non è stata aiutata non mi pare 14 persone per starti dietro non solo anche fra loro c'era anche jason gnauf che era il la persona che aveva aiutato harry in precedenza quindi una bella squadra per aiutare questa nuova coppia e loro poverini poverini cioè molto britannici da questo punto di vista volevano aiutarla a essere di servizio alla nazione il palazzo pensava adesso ci prendiamo un sei mesi per imparare un po come fare le cose insieme megan procederà con umiltà umiltà certo quindi in seguito c'è una discussione lunga in questi mesi su come lei si dovrà inserire all'interno della famiglia reale e megan in realtà in questo periodo per la serie non è vero che ti hanno mandato allo sbaraglio non è vero che non sia stata avvertita hanno cercato di dirtelo cioè sei tu che ti deve adattare alla famiglia reale non viceversa e invece megan insisteva probabilmente credendosi donna forte no non permetterò al palazzo di modellarmi non voleva che la ditta dettasse i suoi pensieri alla sua e la sua attività e su questo lei non non prevedeva compromessi ora io non critico in sé perché sia chiaro il fatto di voler essere una persona che che vuole continuare una donna clavore innanzitutto che vuole continuare a esprimersi liberamente in questo sono completamente d'accordo con lei ma per questo io quando avevo guardato la sua entrata personalmente provando e medesimarmi pensavo ma io non lo farei mai perché lì ti toglierebbero persino il tuo misero account facebook perché tu non puoi più parlare per te stessa se entri in una in un'istituzione simili ti danno dei vantaggi ma in cambio si prendono un sacco e invece no lei convinta voleva tutte e due le cose come poi ha dimostrato no non c'è neanche bisogno di ipotizzare lo ha dimostrato se n'è andata ma intanto continua a farsi chiamare duchessa e sia lei che harry hanno sempre detto e anche nella biografia sper lo hanno ribadito noi vogliamo continuare a servire la corona ma non si serve la corona alle vostre condizioni invece no loro volevano fare di testa loro senza capire che la corona non è al servizio loro ma viceversa e che se uno vuole essere libero cosa che è legittima esci da questa istituzione quindi megan in questo periodo se fosse stata davvero una persona genuina e onesta capendo che se proprio veramente in realtà non ne aveva idea non aveva idea che le avrebbero distrutto la libertà posto che la sua amica gina gliel'aveva detto chiunque con un po di buon senso gliel'aveva detto in questo periodo dopo il fidanzamento ufficiale 14 persone erano lì a dirle guarda che le cose non andranno come stai pensando e lei no invece andranno come dico io però allora non è che non lo sapevi è solo che ti credevi più furba e alla fine non lo eri merisana diceva la regina l'aveva detto che se voleva poteva continuare a recitare sì la regina per questo poi hanno ottenuto la regina lontana da harry e megan perché la regina avendo la sua età ha anche insomma le prometteva cose che non erano tanto vere ecco don bauer ci dice poi che questo periodo a prescindere a prescindere da megan era già un po problematico di suo nel senso che si era visto che c'era questo segretario privato della regina che aveva cercato di mediare tra harry william e carlo perché anche loro erano un po in lotta tra loro per chi era più importante alla fine con carlo che comandava i due figli e gli altri che si lamentavano e alla fine questo segretario non era risultato sconfitto perché il problema è che era già in atto un passaggio di consegne proprio perché la regina aveva la sua età e tutti stavano iniziando a prevedere che insomma stava delegando sempre più compiti a carlo prima poi insomma sarebbe venuto a mancare come effettivamente successo e quindi la struttura del potere non fra la famiglia reale ma fra i dignitari che contavano tantissimo in questa istituzione doveva cambiare e quindi c'era anche questo cambiamento in corso per questo forse la regina diceva una cosa però di fatto non vale più quello che dice lei non del tutto perché tanto lei un po ha fatto il suo tempo e adesso a comandare veramente sono altri anche perché appunto sarà stata anche una persona anziana lasciatela vivere a questa povera donna e lo staff comunque non erano molto felici di questa cosa perché loro stavano provando a parlarci e soprattutto si sentivano comunque non ascoltati Tom Bauer qui prova a dirci che in realtà Meghan e Harry si contraddicono da soli perché da una parte nella loro docu serie dicevano ah non ci hanno aiutati ma poi a Omid Scobie nel libro che ha scritto su di loro dicevano in realtà la regina c'è sempre sostenuto anche Carlo c'è sempre sostenuto e quindi Tom Bauer ci dice o è l'una o l'altra io mi sento di dire che ci sono via di mezzo nel senso che magari dicevano mi hanno sostenuto perché cioè se fossero stati onesti presupponendo che non avevano colpa avrebbero potuto dire mi hanno sostenuto in pubblico ma in realtà avere delle riserve in privato non mi sembra una grande prova comunque vabbè e Tom Bauer poi ci dice che c'erano degli attriti con Meghan con Kate scusate non era non entra esattamente nei dettagli anche perché Kate non aveva molto a che fare con Meghan in questo periodo e probabilmente era una scelta specifica nel senso che erano persone molto diverse avevano pochissimo in comune anche Harry l'aveva rilevato nel suo libro e Tom Bauer prova a dire sì in effetti per Meghan era problematico in particolare perché lei era abituata a circondarsi e il termine giusto è sicofanti cioè di persone che l'ammiravano e che la lodavano e che lei poteva rigirarsi come voleva tutte le sue amiche erano così infatti poi era stata lei ad abbandonarle non viceversa mai e invece con Kate non poteva fare questo gioco perché Kate era in una posizione superiore rispetto a lei e comunque erano così diverse che non Kate non doveva scendere a compromessi per avere a che fare con Meghan non è un modo di dire che Kate fosse snob eccetera è solo che secondo Tom Bauer Meghan non sapeva relazionarsi con una persona così perché lei non era avvezza a fare compromessi nelle sue relazioni personali con altre donne in particolare semplicemente non aveva mai avuto a che fare perché se ne teneva lontano con donne che potessero competere con lei in un qualche modo quindi non lo sapeva fare in questo periodo inizia un tour praticamente lungo di sei mesi per la Gran Bretagna Meghan viene portata in giro ci sono anche altre foto di questo ve lo ricorderete mi ricordo che avevo pensato anche qui scusate devo vedere un po qua che le cose sembravano andare bene nonostante tutto ecco qui Meghan in tour e subito lei cercava di presentarsi e uno ci credeva anche in quel periodo come molto simile a Diana nel senso che era calorosa a differenza degli altri reali stringeva le mani dava baci abbracci si faceva fare foto e quindi la gente l'amava l'amava da morire le dicevano anche in faccia se è la magia che aspettavamo ti adoriamo si aveva voglia di una monarchia più vicina alla gente william non era tanto felice di questo perché lui pensava e sembrava rigido no insieme a tutti gli altri della famiglia reale nel dire no ma il fascino della famiglia reale è che ci manteniamo un po a distanza il bello è che magari potrebbero avere torto comunque nel senso che il membro della famiglia reale più popolare regina a parte è stata Diana comunque che non ha agito come membri della famiglia reale quindi poteva essere che comunque ci fosse un'altra via Meghan stava cercando di seguirla ma non per buona volontà ma per beneficio per se stessa e in questo periodo succede quello che Meghan non voleva perché questo era il suo paradiso in sostanzialmente è l'unica cosa che le poteva rovinare questa festa era la sua famiglia famiglia di serpenti perché thomas markle stava cercando almeno in questo senso di star volar basso non farsi notare ma uno dei suoi figli tom junior una dei fratellastri di Meghan vende a un giornale l'indirizzo del padre e i giornalisti si precipitano a casa di quest'uomo che ha i suoi problemi era sovrappeso vestito male per essere il futuro il padre di una futura nobile non ci faceva una bella figura però non avevano diritto era un privato cittadino tra l'altro di assediarlo come stavano facendo ma se ne fregavano altamente avevano circondato casa sua lui non poteva neanche più uscire senza farsi vedere a un certo punto avendo intuito un attimo il personaggio gli avevano offerto qualcosa in regalo tipo vuoi una bottiglia di vino e lui l'aveva presa e al telefono Harry e Meghan gli dicevano vola basso non farti vedere cerca di non parlare con nessuno Harry in particolare in particolare provava a dirgli non dovevi prendere quella bottiglia perché può essere considerato un un bribe non ricatto un dare per avere in pratica e intanto Thomas sicuramente questo è Thomas che l'ha detto quindi anche lì valutiamo il peso delle sue parole comunque ha visto il carattere del personaggio Thomas diceva ma è tutto qui quello che mi sapete dire mandatemi qualcuno ad aiutarmi e Thomas è sempre a paragonarsi con Dory diceva a lei lo state facendo lei è seguita da qualcuno a me non è manco arrivato un invito a questo matrimonio ancora ma Meghan non voleva farsi coinvolgere più di tanto gli diceva solo cerca di farti vedere il minimo possibile lui sicuramente non ha fatto del suo meglio per farsi amare da questa figlia in questo periodo qui intendo e lui notava lo diceva agli altri figli che quando parlava al telefono con Meghan c'era qualcosa di strano a me non sembra strano però giudicate voi quando Harry è nella stanza lei è super dolce con me ma quando lui esce dalla stanza è una persona diversa cattiva e manipolatrice sì ed è questo se ve lo state chiedendo il motivo per cui Harry ancora sta con lei ancora le crede è che con lui è dolce e per quello lui non ha voluto credere a nessuno di quelli che le stavano intorno ai suoi amici a nessuno perché non vuole rovinarsi questa illusione perché con lui lei è carina e lui non vuole credere che è veramente devastante comunque in generale in queste situazioni credere che l'amore che ti è stato dimostrato fosse solo un tentativo di usarti e che quindi in realtà non ti amava davvero soprattutto per una persona con poca autostima significa dirsi allora io non lo meritavo questo amore mi ha ingannato quindi è per questo che non lo sta facendo anche se e volevo fare uno short su questo perché l'ho letto oggi in un giornale italiano per farvi capire perché poi alla fine i narcisisti e megan sembra narcisista a guardare da questa a guardare questi atteggiamenti si rivoltano contro la persona che che li tratta che all'inizio trattavano bene e in questo articolo di oggi e di ieri dicevano che Harry e megan non sono state invitati al med gala che è un appuntamento che decreta insomma la fama assoluta per chi viene per chi riceve l'invito e pare pare ma anche qui voci del corridoio pare che megan abbia urlato contro Harry dicendo gli è colpa tua per colpa di tutte le cose che hai detto nel tuo libro ah sì davvero lo ha fatto se davvero l'ha fatto tipico nel senso non sarebbe colpa tua è colpa di lui è sempre così con questo tipo di persone quando le cose vanno male non si prendono mai alcuna responsabilità rigirano interamente la frittata e cominciano a dare la colpa all'altra persona piano piano e così il rapporto si erode perché non era mai stato un vero rapporto d'amore mi dispiace mi dispiacerebbe se fosse stato così non mi stupirei mi dispiacerebbe però chi lo sa infatti vorrei capire l'ho letto sul repubblico sul correre vorrevo capire la fonte credo che fosse page six che è un quotidiano non quotidiano scusate un tabloid americano e intanto secondo thomas torniamo a lui che era sediato dai giornalisti dopo il fidanzamento secondo thomas in realtà a tenergli lontano la figlia a far sì che la figlia lo trattasse male era doria e doria non lo faceva per bontà d'animo ma solamente perché sperava che megan le ripagasse i debiti che aveva e le comprasse una nuova macchina e ci credo ci credo perché doria come era stato raccontato era una donna come vi dicevo fin dall'inizio che voleva dalla figlia più di quanto le dava non aveva mai avuto un lavoro stabile l'unico modo in cui aveva acquisito un minimo di sicurezza economica era andata in bancarotta anche lei credo aveva avuto un sacco di debiti aveva avuto una casa solamente quando era morto il padre che l'aveva lasciata alla bella età di 50 anni non era mai riuscito a combinare niente da sola ma thomas accusa la moglie di una cosa che vorrebbe fare anche lui perché sicuramente tutte quelle volte che diceva ah no non posso venire perché non c'ho soldi nel senso mandameli tu i soldi e lei aveva megan gli aveva già dato del del denaro quindi questi genitori tutte e due insomma sono terribili e intanto carrie comunque in questo periodo è felice in realtà perché era nel periodo del love bombing megan gli diceva ogni cosa possibile positiva sulla sua persona gli dava a un'autostima che lui non aveva avuto e lui pare che in un documentario che ha fatto per l'africa per la sua fondazione sentable harry abbia detto che voleva vivere in africa io ve lo dico ponendolo come dubbio perché tom bower dice harry ha rivelato che voleva passare il resto della sua vita lavorando in africa posto che considerato il suo passato mi sembrava logico però questo sembra un dire un quote diretto una citazione diretta e invece quello che harry dice qui dice ora mi sento così pieno di energia così esaltato e per me stesso riesco a vedere esattamente dove voglio portare la mia vita ha detto in africa non mi sembra non lo sto leggendo quindi non ho capito se dovrei sentire io stessa l'intervista posso crederci sarebbe tristissimo perché si harry probabilmente sarebbe stato felicissimo di andare a vivere in bozzuana lui passava tutte le sue vacanze lì era il posto dove l'ho scritto anche nell'autobiografia si sentiva se stesso e invece è finito da tutt'altra parte in quel periodo una giornalista del daily telegraph bryony gordon diceva che si sentiva felicissimo che era una presenza quanto mai leggera che era un uomo cambiato cresciuto e infatti harry ha scelto bryony gordon per una sua intervista post sperra in inghilterra ha scelto una giornalista amica comunque e pare che megan stesse già iniziando cioè lo farebbe anche una moglie normale diciamo così a cercare di indirizzare un attimo i pensieri di harry nel senso che harry era grato a megan per averlo introdotto al movimento di desensibilizzazione e riprocessi riprocessing ai movement movimento dell'occhio un trattamento per sbloccare i ricordi più traumatici però si è come se la veste se consiglia cominciando a consigliarli un terapista suo insomma in cui credesse lei web e in tutto questo loro continuavano a dire in giro che bisogna essere sensibile nei confronti delle persone che hanno disagi mentali o comunque problemi mentali e bisogna essere faultful avere bene in mente quello di cui hanno bisogno queste persone per capire come reagiranno al modo in cui ci si approccia a loro e in mezzo a tutta questa queste belle dichiarazioni però a palazzo le cose andavano un po diversamente nel senso che stava discutendo megan ma anche harry perché harry la sosteneva con lo staff che provava a dirle che non le cose non sarebbero andate come diceva lei lei voleva lanciare in quel periodo già si stava organizzando ed era normale perché lei l'abbiamo vista una donna era una donna sempre in movimento che c'era una cosa ecco un suo difetto non è quello di star ferma non è pigra anzi al contrario deve sempre far cose e voleva lanciare questa questa fondazione per dar potere alle donne e non glielo permettevano comunque perché la famiglia reale aveva questa tradizione decennale anche più di evitare le controversie e infatti qualche membro dello staff stava dicendo già ma questa dura qui cioè con altri termini era abituata a ben altro ambiente secondo me finisce che sta abbarattato il sole della california per la pioggia dell'inghilterra non è che tra poco si porterà via harry a beverly hills come poi è stato effettivamente cioè l'avevano già capita loro basta averci a che fare e qui tom bower descrive quello che in effetti è uno scontro di culture perché io vi sto dicendo che comunque loro cercavano di dirle che non si poteva fare come diceva lei però lo facevano alla maniera britannica e lo abbiamo visto anche nel libro di harry per la serie le prove sono lì che ogni volta che harry provava a imbastire un discorso diretto con i dignitari di corte eccetera loro dicevano sì 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 e poi no in maniera un po ipocrita facevano il contrario oppure non lo ascoltavano oppure facevano sì che il silenzio lasciasse passare il messaggio che no non erano d'accordo e tom bower ci dice che un po era quello che era successo nel senso che megan molto all'americana voleva che le cose venissero dette in maniera chiara i dignitari lei sorridevano e cercavano di non dicevano niente lei interpretava questi sorrisi come un assenso quindi farete quello che voglio invece quello che ci sta dicendo tom bower è che nella cultura britannica conservatrice o comunque all'interno del palazzo questo significa che se non c'è un assenso chiaro significa che stai che non stanno accettando la tua proposta sono molto giapponesi da questo punto di vista anche i giapponesi sono così perché sono così educati i giapponesi che se tu insisti troppo loro ti vedono come maleducato che non rifiutano mai in maniera chiara perché nella loro cultura è chiaro che se non stanno dicendo sì in maniera convinta allora significa che stanno rifiutando e tu lo devi capire mi sembra che mi stia descrivendo un universo simile ma loro comunque avevano un'opinione terribile di di megan perché loro comunque non è che fossero brave persone cioè loro erano molto conservatori l'abbiamo visto anche quando aveva discusso megan con gli amici di harry cioè a me non piace a megan però paradossalmente sono d'accordo con le sue idee fra virgolette woke cioè femminismo e via dicendo mentre invece per esempio gli amici di harry i nobilastri facevano battute sui trans sui gay o via dicendo e l'altra invece di star zitta parlava e loro l'avevano presa male ma lascia intendere tom bauer che un po anche dignitari di corte sono così ma non ma non su queste cose cioè ci si aspettava che megan si conformasse a loro invece lei rifiutava di parlare come loro di vestirsi come loro di comportarsi come loro e non voleva assolutamente provare a capire come funzionava la monarchia che c'erano dei requisiti non negoziabili e cominciano a pensare male di lei cioè che un irresponsabile che cerca di far felice solo se stessa e non ha capito il lavoro che si sta apprestando a fare più nello specifico però ecco in che modo avrebbe bullizzato lei lo staff questo se ne ha parlato anche in altre in altri contesti lei scriveva lei dorme sta donna sarà una di quelle che dorme quattro ore a notte fortunata lei scriveva email al suo staff dicendo che cosa voleva fare durante la giornata anche alle 5 del mattino e pare che cioè mettetevi nei panni dello staff se il tuo capo ti scrive mele alle 5 del mattino probabilmente con un tono da dire fai questo 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 soprattutto se tu vuoi fare il tuo lavoro bene ti viene l'ansia e lo vuoi fare subito con bauer dice che non non era chiaro bene se lei semplicemente scriveva quelle e mail e poi potevano fare con calma oppure si aspettava che venisse tutto fatto subito posto che la comprensione che a lui della cosa è che volesse che venisse fatto tutto subito e gli amici di megan megan andava a lamentarsi con loro diceva che loro erano proprio poco americani in questo senso cioè li stavano denigrando non capiscono la cultura del lavoro americana preferivano un approccio più gentile nel senso da pigri e però per la serie in realtà no megan voleva metterli in ansia come metteva in ansia tutti quelli che lavoravano per lei che finora erano state poche persone ma voi vi ricordate come aveva trattato lo staff di reitman quando aveva fatto il suo servizio fotografico durato pochi giorni già dopo pochi giorni quelle persone non la volevano più vedere tanto che si erano rifiutati di lavorare con lei figuratevi questi paracci megan aveva mandato un ordine alla sua assistente personale tale melissa tubati di comprare delle speciali tovaglie rosse per una una riunione a sandrigam e la tubati non aveva trovato le tovaglie del colore giusto il giusto tipo di tovaglie e pare che questa cosa sia finita tra le urla cioè c'è bisogno di urlare per una cosa del genere allo stesso tempo un altro assistente tale emmy piccherill un assistente capo tra l'altro era stata ridotta in lacrime da megan perché pretendeva megan pretendeva che si facessero le cose in un certo in una certa maniera come diceva lei e non ascoltava mai le persone comunque in tutto questo harry nel suo libro sperci diceva che invece lei si dava da fare per far felice questo staff che andava a visitarli quando erano malati bla bla e allora perché si sono dimessi perché era così buona tanto che una kengsington palace un unitario di kengsington palace ci ha andato a parlare con harry e megan per dirgli che bisogna trattare lo staff con un pochino più di comprensione e pare che la risposta di megan sia stata non è il mio lavoro coccolare questa gente cioè facciano il loro lavoro loro cioè è prepotente non ha importanza se tu pensi di avere ragione se tutti quanti non sono felici sotto il tuo comando cambia atteggiamento ma lei non aveva mai intenzione di cambiare non ha mai avuto intenzione di cambiare in tutto questo il palazzo in questo periodo per la serie non è vero che non volevano aiutarla tutta questa tensione era totalmente nascosta nessuno la faceva presente al di fuori infatti in quel periodo lì megan era ancora amatissima anche perché si stava preparando a organizzare il suo matrimonio e no è questo il momento in cui megan è stata invitata a sandrigam no al castello di windsor scusate per il natale e poi a sandrigam si ed è in questo momento che ha cominciato a nascere la la duplice coppia che poi andata a formare i fab fuori i favolosi quattro vero megan harry william e kate che hanno fatto un poi un'intervista congiunta ma prima di quello il 26 di dicembre quindi dopo quel natale questo è molto interessante harry fa un'intervista alla radio bbc in cui parla anche di megan tra le altre cose e dice che è fantastica averla lì per il natale che gli era piaciuto presentare megan alla sua famiglia allargata suppongo che sia la famiglia che non ha mai avuto voi vi ricordate questa frase chi altro l'aveva detta anche il primo marito di megan trevor engelson tra l'altro l'aveva detta proprio al ricevimento di nozze davanti a thomas e doria cioè i genitori di megan che erano rimasti così la famiglia che non ha mai avuto ne ha avuto due di famiglie che l'hanno cresciuta tutti insieme coccolata riempita viziata in che senso la famiglia che non ha mai avuto che cosa ha raccontato a quest'uomo ed evidentemente le cose queste stesse cose le avrà raccontate a harry perché pure lui usa le stesse parole che ha utilizzato trevor non può essere un caso comunque infatti i genitori si dicono ma che le ha raccontato cioè che era come un'orfana che non che non che non le ha prestava attenzione nessuno ovviamente samantha markel deve parlare sempre diceva in un post di twitter scriveva sbagliando sbagliando nei modi perché tutti pensavano semplicemente che fosse invidiosa di questa donna che non si facesse i fatti suoi mentre samantha si rivolgeva addirittura a harry in un post twitter dicendo guardate che guarda che si ha trattato la nostra famiglia in questo modo tratterà così anche la tua famiglia era vero c'è samantha sembra avere ragione nel merito ma non nei modi e per la serie questa famiglia comunque aveva i suoi problemi il fratellostro di megan thomas junior in quel periodo viene arrestato perché ha puntato una pistola alla testa della moglie e poi è stata arrestata anche la moglie perché sicuramente non erano zuccherino ma 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 no non è per dire cioè non è che uno abbia le colpe della propria famiglia però in generale non è uno scandalo e in effetti per quello i giornali ci si erano buttati a pesce che una persona che sta per entrare in una famiglia così alto locata abbia questo tipo di parenti addirittura uno che punta la testa una pistola la testa dalla moglie mio dio e in tutto questo infatti mi sembra ridicolo perché mi sembra letteralmente ridicolo thomas junior si aspettava un invito al matrimonio si aspettava un invito al matrimonio anche samantha markel dopo tutto quello che hai detto no cioè dai vedete che c'è una ragione ma dall'altra parte ma sei scemo cioè prima la insulti in mondo visione poi ti aspetti che ti inviti al matrimonio suo vabbè e a quanto pare si aspettavano un invito anche il tizio che l'aveva battezzata e anche e questo si può darsi che avesse un po più ragione un tizio mic che l'aveva aiutata a entrare a ottenere quella quel lavoretto estivo all'ambasciata di di buenos aires quello che lei andava raccontando in giro a tutti quanti questo non significa che ti debba invitare al suo matrimonio vent'anni dopo però vabbè quindi bisogna anche contestualizzare quello che sta dicendo thomas thomas tom bauer scusate no scusate stavo leggendo un'altra parte e intanto le cose stavano procedendo vediamo quanto è lunga questa diretta in questo momento un'ora e dieci ok mi sembrava che fosse anche più lunga mi metto a leggere un attimo tutto quello che stavate dicendo allora megan potrebbe persino battere chuck norris con un calcio volante dice merisana megan era già presente scafata fin dall'antico testamento e serpente altro non era che lei una volta lottato con gandhi il nostro discorso è degenerato miranda prisley levati proprio la tecnica dei pinguini del madagascar carini e coccolosi in effetti si daphne diceva pratica molto pericolosa non è raro che durante la terapia se stimolate in un certo modo le persone potrebbero arrivare ricordare cose che in realtà non gli sono mai successe a sì a questo in molto interessante molto interessante come cosa si può essere un tentativo di manipolare maria rosario diceva che se quando carri verrà lasciato da megan se lo meriterebbe perché è stato messo in guardia da tutti non la volete ascoltare sì sì io non penso solo che sia questo nel senso che a volte ci sono persone che hanno una così bassa autostima che quando ricevono love bombing da una persona si tengono lontani da tutti gli amici dimostrando una debolezza di carattere comunque però sono comunque vittime e io sono divisa su questo mio giudizio di carri nel senso che da una parte lo ritengo una vittima dall'altra però non è più solo una vittima nel momento in cui si è alleato con megan per parlare della sua famiglia della sua famiglia di origine dimostrandosi un ragazzino viziato quindi qualche colpa ce l'ha però ecco mi fa comunque un po pena nonostante tutto vediamo che cosa altro stavate dicendo vicious rideva i che in box una dice ikea perché megan nel libro di harry con si continua a dire che lei che compra i mobili con la sua carta di credito mobili ikea se non vanno al met gala diceva tania tra poco assisteremo al met gala di montesito a se potesse lo farebbe mazzetta si braiba una mazzetta scusate a un certo punto mi avevate detto questo ok finisco di di raccontarvi ancora un capitolo da raccontarvi il capitolo 20 aggravation cioè vedete che io a volte leggo le parole in inglese non so tradurlo in italiano aggravation quando uno è oppresso in pratica in quel periodo c'era appunto il tour tra le persone c'erano in acchi pridi che diceva il peggio di megan è possibile è un'arrampicatrice sociale c'è questo dettaglio che di nuovo mi fa un pochettino dubitare di gina vi ricordate non che non sia stata onesta comunque la cosa va capita sia in acchi che gina non è che fossero sante a stare intorno a una come megan perché a volte le persone che diventano amiche di una come megan a volte sono vittime a volte sono persone che vivono di luce riflessa perché noi abbiamo visto come megan ha trattato gina cioè un certo punto le ha chiesto di lavorare gratis per lei l'ha go stata dopo e allora perché adesso gina fa questa cosa nel senso che gina durante uno dei tour che megan e harry intraprendono nella in gran bretagna cerca di vedere megan di persona insieme alle altre persone come una visitatrice posto che va a dire alla sicurezza si cioè qui passerà di qui io voglio parlarci perché la conosco e infatti la gente della sicurezza le dice allora viene da questa parte e poi però lo vanno a dire a megan e megan dice che o non la conosce o preferisce che venga spostata nel gruppo di ferri e infatti gina poi va a parlare con ferri e a ferri dice io conosco tua moglie e ferri assi non lo so allora per errore ti hanno messa nel mio gruppo e gina vede da lontano megan e megan si gira però di nuovo che cosa volevi da gina ti ha già trattato non mi viene da dire una parolaccia ma no c'è tre già trattato malissimo perché stai ancora correndo dietro questa donna che cosa ti aspetti forse nonostante tutto cercava di o le cose sono due o cercava di pensare che magari poteva riallacciare rapporti per sincera necessità di pensare che non era stata una finta tutta quanta la loro relazione di amicizia oppure e non sarebbe una cosa pratica però poco trasparente oppure stavi cercando di tornare a essere sua amica perché alla fine sei un agente dello spettacolo anche tu ed essere amica di una futura nobile serve però anche qui non è il massimo della trasparenza umana questo comportamento di gina vabbè nel mentre tutto lo staff di palazzo sta cercando di far capire a megan che c'è una differenza tra l'essere famosi e l'essere reali soprattutto provano a farle capire ed è la verità nonostante tutto è che tutte le operazioni che fa la corona sono caute nel messaggio che danno che che offrono al pubblico e sono soprattutto a basso budget mentre lei in quel periodo avendo capito male la cosa perché lei ha sempre voluto affiliarsi a persone con più soldi per spenderne ancora di più lei pensava io diventerò una superstar filantropica e aveva chiesto denaro per fare una sua fondazione quando non aveva mica capito che per esempio la fondazione di cui harry e william erano a capo in teoria non era gestita veramente da loro era gestita da dei manager che in realtà usavano harry e william così ci dice tom bauer quindi i soldi venivano dati proprio con lanternino c'era molto una grande struttura gerarchica e mangan invece pensava che la cosa fosse molto più sciolta e infatti avrebbe voluto in quel momento tirare su una sua fondazione benefica con budget dato da loro e inoltre voleva anche un suo segretario personale posto che questa samantha cohen era stata informalmente assegnata come segretario personale ma era più della coppia insomma e invece loro provano a dirle no nemmeno diana aveva un segretario personale e io che ho visto the crown l'ultima stagione a me sembrava che a diana questo non piacesse che che infatti si sentisse intrappolata da questa situazione che avrebbe voluto un suo segretario personale una persona di cui fidarsi ma invece erano tutti a servizio della corona vabbè comunque e la regina comunque cercavano di dire a megan era amata in realtà perché teneva le sue opinioni per se stessa questo è l'unico motivo per cui la monarchia è così popolare è sopravvissuta fino a quest'epoca perché noi non cerchiamo di esporre le nostre opinioni quindi non dovresti farlo nemmeno tu tom bower ci dice che che non aveva molto a che fare con megan comunque era irritata un po dalla situazione generale sia perché aveva ricevuto le prime voci che megan stava bullizzando lo staff che condividevano alla fine e forse forse ci dice tom bower forse un po così come william era un po geloso di harry perché harry aveva delle libertà che lui non si era concesso perché lui era stato alle regole un po era la stessa cosa perché nel senso che lei ha fatto una lunghissima gavetta per arrivare dove era aveva si era immessa nel binario prestabilito tenendosi le sue opinioni per sé vestendosi come le dicevano e poi arriva questa che invece si veste come decide lei coi marchi più famosi eccetera e all'improvviso tutti l'amano più di quanto amino kate perché non sta seguendo le regole e non sembra giusto tom bower lo dice così ma non è che ha prove di questa cosa comunque ma pare che comunque sia che che william se la prendessero in generale perché in questa struttura monarchica così complessa cioè litigavano persino carlo coi figli per chi aveva più visibilità l'idea era l'unico modo per mantenere la pace in questo gruppo era che nessuno cercasse di scavalcare troppo l'altro e invece megan non aveva nessun problema a mettersi sotto la luce dei riflettori e non andava bene perché la famiglia reale le rappresentava tutti quanti quello che faceva uno si rifletteva sugli altri devono lavorare come gruppo non cada uno nel mentre nonostante tutto ci dice tom bower non è vero che non cercavano di andare incontro a megan nel suo bisogno di essere ben vista infatti sono stati i dignitari del palazzo la suo il suo gruppo insomma a trovarle questa attività che si è avuta nel periodo in cui se vi ricordate è andata a fuoco la gran felta war ma adesso vi faccio vedere la foto eccola qui e lei in pratica è stata lei dice poi di averlo fatto abbastanza da sola è andata a cucinare con le donne che vivevano in quel palazzo erano sfollati in pratica e avevano creato una cucina di fortuna per quelli che alla fine erano rimasti lì nelle vicinanze senza tetto per nutrirle nei primi giorni e megan era andata a cucinare in questo modo era stata vista come una persona generosa ha tirato persino fuori un libro da questa iniziativa quello che ci dice tom bauer è che non ha fatto tutto da sola cioè i suoi il suo gruppo il suo team la stava coadiuvando in questo quindi cercavano di venirle incontro nonostante tutto cioè tu vuoi essere sotto la luce di riflettori va bene selezionavano quello che poteva fare e non era molto secondo le loro idee ma provavano a venirla incontro e scusate sto consultando i miei appunti la mettono anche la regina la regina era un soft touch ovvero lei la regina era mai era buona ecco aveva deciso di nominare megan ambasciatrice del commonwealth trust ovvero questa organizzazione a base volontaria da quello che ho capito che doveva portare avanti un concetto di multirazialità della del commonwealth il commonwealth è multiraziale anzi come ci viene spiegato qui per la verità la maggior parte delle persone che appartengono al commonwealth non sono certo britanniche anzi il commonwealth comprende una è una è un concetto secondo me pure superato e lo pensano anche molti paesi del commonwealth che infatti si stanno staccando dalla corona già da anni però un tentativo di farli sentire vicini alla madre patria è per capire che comunque sia orgogliosi della diversità etnica che esiste all'interno di questo grande gruppo che comprende 2,5 miliardi di persone e megan di questa è felicissima figuratevi lei da sola era riuscita a ottenere giusto il ruolo di ambasciatrice di un gruppo evangelico canadese da sola era riuscita a ottenere solo questo invece adesso addirittura ambasciatrice della del commonwealth trust e purtroppo questo nuovo ruolo la espone a critiche ed erano di queste critiche che loro parlavano anche parecchio harry e megan nella loro docu serie quando dicevano che le avevano lanciato addosso insulti razzisti e harry vi ricordate si lamentava tanto dicendo che il palazzo non li aveva aiutati che non avevano non si erano esposti abbastanza dicendo che era sbagliato ecco lo staff di palazzo invece dice non era questo il problema nel senso sì c'era stata una critica razzista particolarmente forte la verità è però che harry e megan non facevano che tormentarci chiedendoci di cancellare tutte le critiche perché non volevano quello quelle principalmente lascia stare gli insulti loro erano le critiche che non volevano e volevano che intervenissimo per fermare le critiche e questo mi sa tanto lasciando stare megan mi sa tanto anche da harry che infatti se vi ricordate se avete mai letto il suo libro per intero e se non l'avete letto potete andare ad ascoltare anche la mia narrazione di quel libro è uno che quando gli fa una critica se la prende se la ricorda per i successivi vent'anni vabbè e finalmente arriviamo a quel momento in cui tutto il nostro caro gruppo di fab for i favolosi quattro da questa conferenza congiunta con kate visibilmente incinta credo sarà stata al settimo mese già un bel pancione e faceva piacere vederli tutti insieme l'idea era che fossero felici che megan si fosse ben inserita in questo gruppo di nuovi giovani reali durante questa conferenza che tengono le cose in realtà non vanno così bene anche se qualcuno prova a chiedere come giornalista a questa ai membri del gruppo se c'erano stati dissapori william e che c'era sì ma come tutti no no william che te no anzi william diceva sì vabbè ma si risolve in un qualche modo in realtà non si stava risolvendo anzi il problema si stava intensificando soprattutto quando megan prende la parola e in teoria dice cose giuste no in teoria se uno le guarda così solo da fuori dice che lei intende parlare di movimenti molto importanti che ci sono in questo momento tipo il me too o time is up perché è tempo di non di dare una voce alle donne perché le donne hanno sempre avuto una voce bisogna semplicemente ascoltarle e e dar loro il potere di parlare perché la voce ce l'hanno già in teoria cosa c'è di sbagliato in questo allora posto che il movimento me too per tutta una serie di persone me compresa è giusto ha ricevuto anche tantissime critiche in inghilterra da parte della fascia più conservatrice della popolazione e direi non solo in inghilterra anche in italiano e ecco non dovrebbe ma nei fatti è un movimento controverso e controverso soprattutto per quella fascia di popolazione che supporta tanto la corona quindi parlando di queste cose megan è come se stesse creando una divisione lei pensa di no perché sono cose giuste in assoluto e non solo questo si espone anche a qualche critica un po più fondata nel senso che alcune persone dicono lei paula le palla di empowerment femminile potere alle donne forte indipendenti ma esattamente tu da quale pulpito lo dici che tu stai parlando e stai diventando famosa perché ti stai sposando con un reale che è la cosa meno empowered che c'è al mondo e non solo questo william e kate si vede se si guarda l'intervista kate si ride un po' a denti stretti anche william perché nel fare questo discorso megan sta facendo quello che vi dicevo prima virtio si virtio signaling sta mettendo il focus su se stessa più che sulle cause nel parlare me lo ha sempre fatto nel parlare di diamo potere alle donne voce alle donne bisogna supportare queste cause è come se stesse dicendo in realtà e sono io la prima a dirlo perché io sono tanto buona perché io capisco i veri problemi e magari magari anche è un po' provato anche william e kate avrebbero queste idee ma non le esprimono perché non gli è stato dato di esprimerle non potevano farlo perché la corona aveva deciso che non si faceva e invece arriva lei che lei è diversa lei quella davvero innovativa e lei si espone e quindi gli altri non sono molto felici per questo anche perché appunto non sembra esporsi per la causa sempre esporsi per mettere davanti a tutti la sua estrema generosità e bontà nella sua modernità lo ha detto anche michelle obama ad un certo punto in maniera molto molto elegante molto sottile servire una vita di servizio significa mettere al centro le cause non se stessi questo l'ha detto michelle obama parlando di megan in realtà anche se cercava di non fare troppi nomi però parlava di quello perché michelle obama come tante altre donne di colore all'inizio sosteneva megan poi ha capito col tempo che lei parlava tanto di fare del bene ma intanto quello che amava di più di fare del bene era parlarne non fare del bene perché questo faceva faceva pensare a tutti che lei fosse questa grande filantropa e soprattutto forse dc dice tom bauer in quel caso lì sembrava che stesse mettendo in ombra anche un po' kate può darsi che ci fossero questo questo sottointeso e infatti tom bauer conclude questo capitolo dicendo che qualche giorno dopo era una durante una celebrazione per il commonwealth service dei non mi ricordo aspettate che lo trovo sì durante una cerco commonwealth dei service il 12 marzo i reali camminano tutti in fila e megan cammina dietro kate come è previsto non perché abbiano fatto un'eccezione per lei al contrario sarebbe stata un'eccezione se l'avesse camminato di fianco non si fa l'erede viene prima poi sua moglie poi harry poi megan ma megan megan è come baby di dirty dancing non la lasci all'angolo o almeno in questo caso era stata cosetta camminare dietro ma non era molto felice non so se avete visto uno dei centinaia di video che analizzano il comportamento corporeo di megan e fanno vedere come ogni volta che lei e harry andavano in giro lei cercava di mettersi davanti per prima sempre anche se il protocollo avrebbe imposto che passasse a lui per prima lei zero sempre davanti o c'era anche questo video di lui che era stava davanti una volta lei che con gentile sono attimo però lo prende e lui si tira indietro perché è questa tutti questi gesti sembrano una sottile mancanza di rispetto di nuovo non perché è un'idea antiquata no che la moglie deve stare dietro al marito assolutamente è solo che in questo caso non è la moglie che sta dietro al marito è una persona borghese che sta dietro alla corona non a harry o al marito in quanto uomo ma in quanto rappresentante della corona è un mostrare rispetto all'istituzione che ti sta dando i benefici di cui tu stai godendo e lei questa cosa non sembra mai capirla e questo è everything e forte dei vediamo che cosa state dicendo come narrazione il potere influenzare diceva francesca lo sia qui lo si acquisisce essendo ben saldi alla ribalta e la regina le offriva la first class non l'economy quanto è una visibilità sì questo sì la regina dice francesca ha avuto molta longanimità è una parola verso di lei apertura di credito generosissima forse cercato di non commettere errori che aveva fatto in passato nella sua famiglia la sua fiducia è stata ripagata secchiate di sì la regina cioè con l'età uno diventa anche un pochino più clemente meno rigido dipende da persona a persona la regina ha reso scontenti tanti suoi familiari a partire dalla sorella vietandole ad esempio di sposare quell'uomo sposato che lei quell'uomo divorziato anzi che lei amava e quindi forse voleva essere più buona visto che i tempi erano cambiati gioia diceva secondo me la responsabilità più grande l'ha avuta la regina perché ha permesso a me tutto quello che ha voluto e questo ha fatto credere alla duchessa che avrebbe fatto ciò che voleva la regina aveva anche 91 anni 90 anzi anche di più forse lei più che megan cercava di rendere felice il nipote anzi in tutto questo forse harry si sentiva più compreso da questa nonna e a tutti coloro che dicono che è stata la corona a uccidere diana e qualcuno lo dice ancora vi invito a in teoria chi era che aveva la corona chi la regina molti avevano detto è la regina che l'ha fatto carlo ma con l'assenso di sua madre eppure harry in tutto questo incolpa la stampa non incolpa la sua famiglia non ha mai incolpato la nonna in teoria a tutti coloro a cui piace mettere la regina contro diana non lo fa nemmeno il suo stesso figlio harry non l'ha mai fatto harry adorava alla nonna perché lei lo viziava vicious diceva che su gina aveva la mia stessa impressione vi state divertendo in chat diceva merisana non vi controllo non vi leggo vi siete scatenati non so neanche in cosa avete scritto ce lo sto leggendo adesso stiamo diventando mega l'omania eh sì decisamente vediamo tornando un po indietro siamo oddio santo siamo alla pagina 298 di 724 mio dio mio dio è infinito infinito assi no beh in realtà ci dice che dalla pagina 628 sono già solo a knowledge mens quindi ringraziamenti e via dicendo quindi ancora altre cose 400 pagine 300 sono tantissime comunque the princess diaries shannara dice megan avrà visto troppe volte un principe tutto mio e per pensare che persino lì a un certo punto appunto la ragazza capisce che preferisce vivere la sua vita privata e non sottostare le regole rigide di questo palazzo adesso mi sono accorta che avete scritto troppissimo non posso leggere tutto le d dice le dd ne parlavano bene a scuola come di una donna che aiutava i poveri la principessa del popo del popolo ma all'epoca era innamorata di carlo mi sembra tanti concetti in uno solo lei voleva mantenere in piedi quel matrimonio ed era infelice per la presenza di camilla quindi direi di sì bianca diceva susciterò una probabile disapprovazione ma sono convinta che megan sia sempre stata gelosa di kate per la sua perfezione non credo per la perfezione penso solo perché aveva un ruolo più alto del suo che megan avrebbe pensato di meritare sono sta convinta che se william fosse stato single megan avrebbe puntato lui dubito che lo avrebbe sarebbe riuscita ad acchiapparlo perché l'altro era più prudente però se avesse potuto avrebbe puntato lui merisana dice il principe filippo stava dietro elisabetta si infatti non era una non è una questione uomo donna ma ti assicuro che se tu l'avessi detto e sicuramente i dignitari di corte gli assistenti glielo avranno detto megan avrebbe detto a una cosa maschilista antiquata non devo stare dietro a mio marito e non si trattava di questo appunto anche il principe filippo che era un uomo stava dietro la moglie alla fine diceva marco cosa hanno concluso se ne sono andate lui ha scritto un libro che si è ritorto contro lei era praticamente sparita si era vista in fotografia fuori da un ristorante loro pensano che non sia ancora finita chiaramente vedremo vedremo cristina mi fa un mega saluto dal canada troppa neve qui complimenti per il canale sei molto brava e competente grazie mille sono invidiosa del del canada in cui stai aria assai migliore rispetto a quella che c'è qui in pianura padana marco dice la cara megan forse stava meglio prima sì ma lei non ero mai felice lei avrebbe già potuto costruirsi una sua sicurezza economica da una vita se non avesse speso tutti i guadagni di di suzze non c'è una prova che le abbia spesi tutti ci sono solo le le testimonianze di chi dice tipo gina l'amica che diceva che megan cercava soldi sempre perché spendeva un sacco e altre voci che sostengono ancora che questo sia vero che lei scrocchi dalla gente quando può ad esempio ha scroccato il un mese di alloggio e oltre anzi e oltre a casa di tyler perry di questo tizio che neanche conosceva gli ha fatto pena e l'altro gli offerto perché era generoso gli offerto la casa e lei l'ha presa subito senza alcuna vergogna si raccontava adesso adesso che sta con harry si raccontava che con la stessa tecnica si stesse avvicinando a un vecchietto tale ghetti un notizio ricchissimo miliardario per cercare di far ripena per farsi regalare altre cose da lui nonostante la abbia la posizione attuale con gli eredi del vecchietto che cretini non sono stavano cercando di tenergliela lontana era una voce probabilmente uscirà un altro libro in seguito su tutte queste cose non vede l'ora no però posto che diventa sempre più estenuante nei prossimi capitoli tom bauer ci parla del tiara gate del gate del cioè del bridesmaids dresses gate dei litigi che hanno avuto sulla tiara sul gli abiti da damigella con versioni diverse non è che lui ne sappia più di tanto rispetto agli altri posto che la versione che ha dato harry secondo me con kate harry ha detto che in sper che kate è venuta da loro a scusarsi dicendo che è vero sono stata io a farti piangere quindi in teoria dobbiamo credere a lui e io credo a questo penso anche che in realtà che it lo abbia detto semplicemente per la tipica dignità che hanno questo tipo di persone perché non le avrebbe dato la soddisfazione di dire mi hai fatto piangere e perché stavano cercando di portare pace di fare le persone mature di essere un po condiscendenti anche credo merisana dice altre 700 pagine diceva pensavo stessi per dire ha scroccato un mese di netflix ma guarda pure quella è capace giacomina diceva caprarica quando si sono sposati ha detto che william non avrebbe potuto sposarla come erede al trono a perché era perché era divorziata sì probabile sessi merisana diceva che megan e harry con la loro fondazione hanno fatto molto poco sì infatti non hanno fatto quasi niente nulla di rilevante hanno i soldi hanno la visibilità fate fate del bene almeno questo le risolverebbe un minimo e invece no vabbè secondo me più in là potrebbe anche saltare fuori lo scandalo dei soldi che sono stati donati che pare che ecco i soldi della sua fondazione siano stati donati l'avevo letto al 70 80 per cento da un solo donatore che forse era proprio quel ghetti lì secondo me quei soldi li usano per loro stessi e se salta fuori qualcosa del genere scandalo degli scandali fra qualche anno probabilmente per ora poi sapremo come forse avrete visto dai miei shorts se megan è di nuovo incinta o meno se è vero oppure la solita cavolata che sparano i giornali e uno short i short sono piccoli video di youtube tipo video di tik tok che avevo intenzione di fare oggi non ho fatto in tempo probabilmente non uscirà fuori nulla però quello scemo di harry perché questa qui è proprio essere sciocchini che ha dichiarato in mondo visione pensando di essere molto candido ho fatto uso di droghe anche pesanti illegali non si è reso conto che lui non è cittadino americano e che in teoria siccome l'ufficio emigrazione americano è così duro con tutti quanti deve esserlo con tutti perché sennò poi viene accusato di favoritismo e insomma pare che abbiano detto ma come ha fatto uso di droghe allora quando ha fatto la dichiarazione che non l'aveva fatto perché quando per ottenere il visto comunque la carta di residenza o quello che è la green card bisogna dichiararlo che non non sei una persona pericolosa che non hai violato la legge ma lui invece ha detto che l'aveva violata quindi è un illecito quindi in teoria gli può essere revocata la green card o quello che è questo era quello che avevo letto ma andrò a fare ricerche più specifiche per farmi sapere questa cosa secondo me non lo cacciano ma se lo cacciassero sarebbe molto divertente no molto divertente più che altro oggi qualcuno mi ha detto in giro che io sembro godere troppo di queste cose io lo ammetto perché lo avete visto senza vergogna che sì io rido dei potenti e soprattutto come nel caso di harry e megan non è che godo generalmente delle sfortune altrui ma godo delle sfortune altrui quando capitano a persone che hanno costruito la loro fama su nel sul fare del male agli altri in questo caso harry e megan stanno cercando di elevare la propria posizione passando per vittime di un sistema quando a me non hanno dato questa idea e tutto ciò mi sembra profondamente ingiusto e quindi ne parlo e rito merido di questa cosa merisano diceva loro sono come amber heart che ha pledge dei soldi in beneficenza a pudarsi può darsi non lo so ecco non ho seguito molto il caso amber heart ti vivrà vedrà con questi due per ora potenzialmente venerdì faccio un'altra puntata di questo anche se forse non venerdì forse sabato avevo detto venerdì ma oggi non avevo oggi sono oberata forse lo avrete letto se mi seguite su telegram su dei vari commenti o su vostro consiglio comprato uno dei libri di caprarica ovvero l'ultimo quello che racconta di william harry in guerra mi sembra un po più fiction rispetto a tom bauer posto che anche tom bauer alla fine deve cercare di narrare le cose senza dichiarare solo fatti non mi sta piacendo così tanto ma per ora ho lato sulle prime due tre capitoli quindi non saprei vi saprò dire meglio in seguito intanto vi rivelo che oggi ho preparato una di quelle torte cameo ed è in frigo e c'è una fame incredibile sì lo so non dovrei mangiare a quest'ora ma è pronta e quindi mi sta chiamando e quindi mi moro per andare a prendermi un tè una di quelle tortina è l'ultima torta che ho fatto in questa cosa ah sì l'ultima cosa pare pare che forse avrò la fibrottica non si sa forse nel senso che ho fatto questo contratto area bianca e è già arrivato il tecnico io pensavo che arrivava fra 30 giorni invece hanno detto ai miei genitori assi sembrano tutto a posto quindi sarete uno dei primi ad avere la fibrottica davvero davvero questo è importante perché sennò io queste dirette non le posso più fare da quel posto lì perché adesso vado a stare per qualche mese almeno in campagna e quindi qui finora stavo a milano con fibra ottica la massima potenza e arriva fino a casa intendo con la fibra che arriva lì lì alla mia porta e quindi era un po complesso invece mi era già capitato che ci fossero laghe eccetera fatto da non dico con adsl manco adsl c'era speriamo pregate per me pregate quando avrò la certezza vi dirò abemus fibra buona torta mi dite glam diceva io ascolto sempre le interviste di bauer in tv perché uno stile british fantastico nell'offendere megan sono contenta di darmi un momento di leggerezza e di gossip che come ho già detto e lo ribadisco dai tempi dispera siamo tutte comari qui sicuramente lo facciamo anche per distrarci dal vuoto delle nostre vite e lo dico parlando anche della mia così a volte divertente e basta sarebbe sbagliato secondo me solo se ce la prendessimo con persone che non hanno fatto niente di male a nessuno non è il caso di carri e megan dopo megan servere prendere forze zuccheri diceva francesca esatto come ultima cosa ma sicuramente per la maggior parte di voi non sarà interessante perché parlerò di un argomento differente ovvero di un anime sailor moon il sabato 25 dicembre mi trovate al garda con di brescia a montichiari farò come ho segnalato nel mio nella mia bacheca una ospitata in un palco e starò a parlare di sailor moon che ha un altro dei argomenti di cui parlo in questa in questa in questo mio canale francesca diceva le allegre comare di windsor si adesso colgo un saluto che qualcuno mi ha fatto ve lo ripeto perché è favoloso mi saluto un caro saluto plebeo a tutti quanti perché siamo tutti plebei qua giustamente e fieri di esserlo buonanotte a tutti ci vediamo se non venerdì probabilmente sabato no sabato anzi probabilmente domenica no forse deve essere venerdì vi faccio sapere seguitemi iscrivetevi al mio canale buona notte